Si ripresentano agli ordini dello starter per la ripetizione della prima corsa i tre anni interpretati dai gentlemen, protagonisti del premio Royal Ghoul non ci sono più Simpli Road e Serenoia perché precedentemente squalificati e anche Skipper che è stato distanziato per danneggiamento grave e palese i propri danni di Simpli Road e dunque in prima fila sono rimasti Samsara, Sofia & Glory, Saul Musk, Solitario USM e Sandros Slid SM seconda fila per Stornello, Jet, Special Fez, Sabina Mail, Saware e Salciccia questa volta emergono in lotta Sofia & Glory e Solitario USM seguiti da Samsara con Solitario USM che passa sull'errore di Sofia & Glory Samsara in seconda posizione a precedere Stornello, Jet che ha all'esterno Sandros Slid SM che ora ripiega in quarta posizione mentre sbaglia Saul Musk all'esterno dei primi e Salciccia seguita da Savoir Samsara sposta dalla scia di Solitario USM ha il via libera dall'avversario dopo 450 metri viene a sua volta impegnata ora da Stornello, Jet la scia del quale è presa da Special Fez mentre ha sbagliato Salciccia primi 600 metri in 47,5 con Stornello, Jet che a sua volta toglie il comando a Samsara prontamente inseguito da Special Fez quindi Samsara, Solitario USM, Sandros Slid SM ancora Sabina Mail e Savoir in coda Stornello, Jet impegnato da Special Fez quando mancano 650 metri al traguardo con Special Fez che insiste terza posizione per Samsara davanti a Solitario USM nel frattempo il chilometro va via in 1.17.8 con Stornello, Jet che ora reagisce all'attacco di Special Fez i due acquisiscono vantaggio nei confronti di Samsara, Solitario USM, Sandros Slid SM e gli altri Stornello, Jet che torna in chiaro vantaggio dopo 1.200 metri in 1.31.9 Special Fez all'esterno, ancora in seconda posizione davanti a Samsara e Solitario USM Stornello, Jet ora acquisito chiaro margine nei confronti di Samsara che cerca di rimontare all'interno Special Fez, cerca di avvicinarsi anche a Solitario USM Stornello, Jet in vantaggio, ora un po' in calo ma ancora in evidenza su Samsara, Special Fez e Solitario USM nel finale, Stornello, Jet che si mantiene in chiaro vantaggio nei confronti di Samsara che probabilmente lungo la corda precede Special Fez per il posto d'onore con Solitario USM al quarto e dunque dovrebbe essere 8.1.10 l'arrivo ufficioso della prima di Capannelle 1.16.6 la media al chilometro per il vincitore Stornello, Jet, Giovanni De Simone Junior l'interprete del figlio di Naglo mentre Samsara lungo la corda rientra probabilmente a Special Fez per il posto d'onore e dunque dovrebbe essere 8.1.10 l'arrivo ufficioso della prima di Capannelle Grazie! 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 Grazie!